Oggi reaction al grandissimo Roberto Mercadini, per chi non lo conoscesse, è uno youtuber ma è anche scrittore, poeta, attore, autore di opere teatrali e di solito nel suo canale porta delle riflessioni che fa della vita e le narra, le argomenta in maniera molto teatrale, molto simpatica. Nell'ultimo video ha parlato di teoria musicale, ce l'ha detto io ho sempre avuto dei dubbi, ho chiesto degli amici musicisti, hanno cercato di chiarirmi le idee e questo è quello che ho capito e siccome gli argomenti che porta, le tonalità, la metrica, i valori musicali eccetera eccetera sono abbastanza importanti e soprattutto potrebbero interessare ad altri profani, ho detto facciamo questa reaction e andiamo a correggere quelle parti dove ha sbagliato, insomma dove ha interpretato probabilmente male e cerchiamo anche di approfondirle. Consideriamo che di ognuno di questi argomenti dovrei già aver fatto un video specifico, però insomma facciamo questa reaction. In realtà lui parla per circa mezz'ora, io ho scaricato il video, l'ho tagliato e quindi parlerà in questo mio video per circa 13 minuti, il resto sarò io. Per cui partiamo, beh ho diviso in 6-7 parti questo video, prima sentiremo quello che lui avrà da dirci e poi commenteremo insieme. Allora per esempio una volta ho chiesto a un amico, insegnante di musica, senti mi spieghi cos'è la tonalità di un brano? Io so che ogni brano in musica ha una tonalità, però non ho ben capito cosa sia, mi spieghi? E lui mi ha risposto, ah è semplice, è la nota verso cui tutto il brano va, non ho capito. No, è la nota verso cui tutto il brano va, lo senti che il brano va verso quella nota, ma lo sentirai te, lo sentirai te che sei un musicista, un insegnante di musica, io non sento niente, poi cosa vuol dire che il brano va, è una metafora questa qui, ma dammi una definizione, una definizione anche tecnica, anche dove compaiono dei concetti che non capisco, almeno capisco cos'è che non ho capito, almeno capisco quali pezzi mi mancano, fammi degli esempi, non so, ma non dire, no no ma è così, è così, non si può definire in un altro modo, è la nota verso cui tutto il brano va, niente, un'ora di dialogo, niente, non ho cavato un ragno da un buco. Ok, praticamente ci sta dicendo, io la definizione di tonalità non ce l'ho, ma ho capito che esiste una nota che attira tutte le altre, e che solo un musicista potrebbe riconoscere questa nota o questa tonalità. In realtà, ben, innanzitutto ho fatto un video specifico sulle tonalità, ma al di là, questa cosa è vera in parte, cioè in una tonalità esiste ovviamente una nota che attira tutte le altre, e il problema è riconoscerla. Cioè, se io ascolto, io musicista, se ascolto un brano, non sono in grado di dirti qual è la nota di riferimento, se è tonalità di do, di re o di fa diesis. Per farlo ho bisogno di due cose. A, di avere a disposizione uno strumento musicale sul quale sperimentare le note che ho ascoltato, oppure di avere l'orecchio assoluto. B, anche se avessi l'orecchio assoluto, dov'essere in grado di riconoscere questa nota che attira tutte le altre, che è il primo grado, che è la nota fondamentale. A quel punto potrei dirti, ok, siamo in tonalità di do. Parlando di tonalità, però, esiste anche il modo, cioè se io dico questo brano in do, non significa quasi nulla. Do maggiore o do minore, quindi c'è una seconda parte. Questa cosa è un po' più semplice, cioè anche un profano ascoltando un brano potrebbe, in alcuni casi, riuscire a capire se si tratta di una tonalità maggiore o minore, perché mediamente le tonalità minori sono più malinconiche. Però, attenzione, non sempre. I notturni Chopin, malinconici, sono scritti quasi tutti in tonalità maggiore, per cui prendiamo con le pinze questa cosa. A livello invece di definizione potremmo dire, a livello accademico, a me piace questa, la tonalità è la sfera armonica entro la quale si svolge la composizione. Qualcosa di un po' tecnico, capibile forse solo da un musicista. Se dovessi rivolgermi ad un profano, gli direi che cosa indica la tonalità, non la definizione. E direi, guarda, la tonalità indica quali note verranno utilizzate dal compositore, oppure qual è la scala di riferimento dalla quale il compositore andrà a prelevare le note. Tra l'altro, il concetto di tonalità è strettamente correlato all'estensione, che è la quantità di suoni che lo strumento è in grado di generare o che il cantante è in grado di cantare. Per cui, quando un compositore deve scrivere una canzone, è molto vincolato dall'estensione del cantante, quindi là, a livello di tonalità, non può scegliere qualsiasi tonalità, deve rispettare l'estensione del cantante. È ancora vincolato quando, abbastanza vincolato, quando dovessi scrivere una composizione orchestrale, perché dovrà far sì che tutti gli strumenti, ognuno con la sua estensione, possano suonare. È un po' meno vincolato quando, ad esempio, scrive un brano pianistico. Pienoforte può, ha un'estensione enorme, abbraccia tutte le tonalità, per cui può scrivere un po' in tutte le tonalità. Ok, andiamo avanti. Secondo punto. Lui fa un discorso molto veloce sugli accordi, che però ho tagliato. A un certo punto, però, si fissa su due nomi che vengono dati a due note di un accordo, cioè la fondamentale e la dominante. Sentiamo cosa dice e poi diremo qualcosa. Se una si chiama dominante, un'altra si chiama fondamentale, già non ci siamo, dominante fondamentale, dominante fondamentale che dicotomia è, che contrapposizione è, sembrano due sinonimi. se dici c'è la dominante e la dominata, la dominante e la recessiva, oppure c'è la fondamentale e la marginale, la fondamentale e l'accessoria. Ma il dominante fondamentale, qual è quella più importante? No, ma sono tutte due importanti. A posto, sto capendo tutto, sto capendo tutto. Comunque va bene, allora, ci sono tre note, la prima, la terza e la quinta. Una è la dominante, un'altra è la fondamentale, la terza. No, la terza non ha un nome. Ma allora devi andare a cagare te, tutti gli insegnanti di musica dell'universo, John Sebastian Bach, Miles Davis. Beh, allora, qui secondo me ci vuole giocare un po', nel senso che non credo che il musicista al quale si sia rivolto non abbia saputo dirgli che la terza nota dell'accordo si chiama modale. E anche il fatto che lui paragoni la fondamentale e la dominante a livello lessicale, che sono due sinonimi. Allora, sì, potrebbero anche essere due sinonimi, ma i sinonimi hanno sempre una loro caratteristica particolare. In musica sicuramente fondamentale e dominante sono le note principali, ma si trovano all'opposto, cioè la fondamentale, il primo grado, la nota che crea la massima stabilità. Il quinto grado, la fondamentale, è la nota che crea la massima instabilità, la massima tensione, per cui la fondamentale sta in terra, la dominante sta in cielo. Quindi sinonimi, ma all'opposto. Immaginiamo la scala come un edificio, la scala musicale, la fondamentale è sale fondamenta, per cui tutte le altre note si appoggiano sopra. Non può mancare la fondamentale in un accordo o in un brano. Il quinto grado, invece, la dominante, immaginiamo la scala musicale come una montagna, ai lati abbiamo le fondamentali, la terra, e dall'apice, sul cucuzzolo, abbiamo la dominante che domina. Ho già fatto un video sui gradi della scala. Insomma, questa è la spiegazione, il commento a quello che ha detto lui. Andiamo avanti, ora parlerà dei nomi che vengono dati ai valori musicali. Questi. Allora, vi faccio notare subito. Il caso più comune è quello che io ho incorniciato in rosso, la cosiddetta semiminima. Vedete che è la forma più familiare, più semplice della nota. Il pallino nero, che si chiama testa, con una seccella. Già capite? Questa è la nota che, come dire, normale, per capirci. Semiminima. Semiminima. Cioè, una parola che non ha senso. Si autocontradisce. Cos'è la semiminima? È la metà della minima. Ma se la minima è la quantità minore possibile, di cui non esiste qualcosa di inferiore, come fa ad esistere la semiminima? Cioè, è una termine che si autocontradisce. È della nota normale. Ecco, tu pensi. Ma se una nota dura il doppio della minima? Ah! Della semiminima? Cioè, se dura il doppio di questa? Ah! Il pallino perde il riempimento, diventa bianco. Ah! Ma se dura ancora di più, dura il doppio di questo? Allora è così. Perde anche l'asticella. E se invece, rispetto alla semiminima, è più corta? Allora si aggiunge questo, questo, questo ondina. Ma se è più corta ancora? Allora due. Ondine si aggiungono. E se è ancora più corta? Tre. Cioè, capite la perversità? Cioè, più la nota è breve e più si aggiungono segni grafici. Più è lunga e più si tolgono. Cioè, adesso tu dimmi, adesso tu dimmi, adesso tu dimmi, se c'è una parvenza di razionalità in questo. Beh, qui come non dargli ragioni? Io stesso ho fatto un video dove dicevo le stesse cose. Ci voglio parlare di minima semiminima, croma, eccetera. Che senso ha? È inutile. è controintuitivo, come dimostra. È stupido. Anche perché questa terminologia deriva dal vecchio sistema mensurale, cioè che era quel sistema che permetteva di assegnare ad ogni nota un valore. Il problema è che una volta il valore più breve, più piccolo, era appunto la minima termine latino. Poi successivamente sono nati dei valori, si è cominciato ad utilizzare delle note con valori più piccoli, ad esempio le crome, termine greco, che significa colore. Le crome erano considerate dei colori tra le note minime. Tutti gli altri valori più piccoli sono nati successivamente e ovviamente si è cercato di trovare una terminologia che potesse rispecchiare il rapporto a livello di valore tra le note. Ma oggi non ha assolutamente senso parlare in questi termini. La seconda questione invece che affronta è questa. Lui dice perché le note lente, lunghe, devono essere rappresentate graficamente da un semplice pallino e le note invece brevi da una stanghetta, dei ricciolini. È una cosa controintuitiva, lui dice. Non ha tutti i torti ma nella realtà è esattamente il contrario. La prova del nove, provate a immaginare di guardare due battute. In una battuta trovate un pallino bianco, una semplice nota, una sola bianca. In un'altra battuta una serie di note nere, con stanghette nere, su ogni stanghetta vengono applicate addirittura dei ricciolini. Quando la mente andrà in allerta ed è bene che vada in allerta in maniera naturale, senza avere nozioni, quando vedrà tante stanghette nere, tanti ricciolini, è una cosa naturale. Sicuramente quella battuta sarà più difficile che la semplice nota bianca e così deve essere. Vedendo la semplice nota bianca la mente si rilassa perché non deve fare nulla, deve solo ricordarsi di tenere premuto quella nota per quattro quarti. Vedendo tante note invece è bene che vada in allerta perché subito dopo aver premuto una nota dobbiamo premerne un'altra, per cui è più logico che le rappresentazioni grafiche avvengono in questo modo. Ok, andiamo avanti. Ora parlerà velocemente del fatto che i valori delle note possono essere espressi anche in frazione, finalmente, e del fatto che c'è un rapporto tra i valori delle note e quindi la velocità delle note è qualcosa di relativo. Non avrò nulla da commentare alla fine ma vi farò ascoltare lo stesso questi due minuti perché comunque dice una cosa giusta e potrebbe anche servire a qualcuno. Ci sono altri nomi alternativi. La semiminima si chiama anche quarto, la croma ottavo, poi c'è sedicesimo, trentaduesimo, mezzo intero. Ora uno si può chiedere ma quarto di cosa? Cioè quanto è che deve durare la semiminima? Un quarto di secondo? Un quarto di minuto? Un quarto d'ora? Perché quarto? Ora no. Questa è la seconda cosa che ho capito perché mi ci è voluto un po' di tempo per capire. Le durate non sono assolute, sono relative. Cioè non c'è una quantità di secondi o di decimi di secondi che dura la semiminima o che dura la minima. No. L'importante è il rapporto di durata fra le note. Cioè ammettiamo che tu sia un pianista. Tu vedi uno spartito. Nello spartito ci sono delle note così, cioè dei quarti, ci sono delle note così, delle crome, delle ottave, delle note così. Tu decidi che la semiminima, cioè il quarto, dura un secondo. L'importante è che poi suoni la lunghezza delle note in modo coerente. Cioè la nota che dura metà di un quarto, dura un ottavo, allora dura la metà di un secondo, dura mezzo secondo. La nota che dura il doppio, allora dura due secondi. Naturalmente ci può essere un altro pianista per cui la semiminima, cioè il quarto, non dura un secondo ma un secondo e due decimi. Vabbè, l'importante è che quando fa la metà, fa la metà di un secondo e due decimi, quando fa il doppio, fa il doppio di un secondo e due decimi. Ultima cosa, ultimo particolare che dimostra il fatto che la durata delle note non sia assoluta ma sia relativa, esiste il metronomo. Il metronomo, no? È quell'oggetto con un'asta che oscilla e si può regolare, si può regolare da 60 battiti al minuto a 200 passa battiti al minuto. Perché si può regolare in modo continuo? Perché appunto la velocità è a discrezione dell'esecutore. Se non fosse così non esisterebbe il metronomo, non avrebbe senso, no? Se la semiminima durasse un secondo basterebbe un normale cronometro, un orologio che batte, fa un movimento di lancetta ogni secondo, dopodiché uno per fare le minime aspetta due secondi. Ok, va bene. Ok, qui assolutamente nulla da commentare, per cui andiamo avanti. Adesso ci parlerà di un suo sistema di notazione diverso da quello classico. Cioè lui dice, a me non va questo fatto che le note che durano tanto siano espresse con dei segni, con pochi segni, e le note brevi invece con molti segni. Io farei così. Dopo commentiamo invece questa parte. Il quarto è fatto di due segni, un pallino e un segmento. Allora, il pallino sarebbe il momento in cui il tasto viene premuto, in cui la voce viene messa e il fiato viene insufflato nello strumento. E poi c'è questo segno che indica o il protrarsi della nota, oppure il fatto che alla nota segua uno spazio di silenzio. E questa è la durata, come dire, che uno ritiene quella più classica, standard. Ma, e se ci sono delle note più lunghe, metti che ci sia una nota lunga il doppio, appunto un mezzo. Allora faccio così. I segmenti invece di uno diventano tre. Quindi in totale uno, due, tre, quattro segni invece di due. Il doppio. Il doppio. E se invece la nota è più breve, è un ottavo, allora faccio il pallino senza il segno del prolungarsi della nota o della pausa che segue la nota. Quindi i segni invece di uno, scusate, i segni invece di due sono uno. Ok? Così ha senso. Più la nota è lunga, più segni ci sono. Più la nota è corta, meno segni ci sono. Va bene. Ok, allora è un sistema abbastanza interessante, soprattutto con dei bambini molto piccoli. Il problema che potrebbe funzionare solamente con dei brani semplicissimi. E quando dico semplicissimi intendo il Framartino Campanaro. Già con il Tanti auguri a te, che vedremo adesso, tra pochissimo, comincia a mostrare questo sistema delle criticità. Insomma, non è ovviamente utilizzabile per dei brani aventi molte note o note ad accordi, o sedicesimi, trentaduesimi, o valori puntati, o gruppi irregolari, eccetera. Ovviamente è inutile cercare di spiegarle perché. Però per un bambino di 4-5 anni che deve suonare il Framartino potrebbe anche andare bene. Ok, andiamo avanti. Ora ci parlerà delle battute, quindi della metrica, e poi scriverà, secondo questo suo sistema, il Framartino Campanaro e arriverà a capire, a pensare di capire perché i quarti si chiamano quarti. Vediamo e poi commentiamo. Un brano musicale non è un flusso di note informe, ma ha un ritmo che si ripete, ha delle frasi che ritornano. Quindi lo possiamo dividere in cicli, che solitamente si chiamano, solitamente, che tecnicamente si chiamano battute. Allora, prendiamo un brano semplice, semplice. Framartino Campanaro. Come lo dividiamo in cicli? Non c'è un unico modo per dividere un brano in battute. Basta trovarne uno e poi agire in modo coerente. Framartino Campanaro. Ecco, blocco subito. Memorizzate quello che sta facendo. Adesso lui sta trovando una metrica Framartino Campanaro. Vedete che la mano si abbassa e l'abbassarsi significa il battere. Lui probabilmente non sa cosa significhi battere e levare, ma gli viene naturale Framartì battere quando pronuncia ti, non quando pronuncia fra. Non è Framartino, ma lui compie questo gesto, questo solfiggio. Framartino Campanaro. Memorizzate questa cosa perché poi vi farò notare un'altra cosa. Dormi tu, dormi tu. Suonano le campane, suonano le campane. Din don dan, din don dan. Così è diviso bene. Adesso proviamo a osservare la lunghezza delle note. Framartino Campanaro. Non ci sono delle note più lunghe, delle note più corte, sono tutte uguali. Allora, queste note che sono tutte uguali le disegniamo così, col quarto. Cioè, la nota che io ho incorniciato in rosso, quella normale, cioè il pallino seguito da un trattino. Framartino. Pallino segmento, pallino segmento, pallino segmento, pallino segmento. Cioè, un quarto, un quarto, un quarto, un quarto. Campanaro uguale. Campanaro. Ok, ho bloccato perché volevo farvi vedere che quando poi va a scrivere, scrive imbattere. Cioè, mentre prima va solfeggiato framartì, quindi il t era imbattere, qui parte imbattere con il frà, frà. Ora, va bene ugualmente, cioè l'idea della metrica c'è ugualmente, però è in contraddizione con quello che gli era venuto naturale, che a mio avviso era anche la cosa migliore. Comunque, andiamo avanti. Quarto, 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 quarto. Dormi tu. Vedi che tu non è come Framartino. È più lunga. È lungo il doppio. È lungo il doppio. Allora, vedi, se lo fai così. Dormi tu. Dormi tu. Otteniamo sempre uno, due, tre, quattro quarti. Capito? È sempre quattro quarti. Suonano le campane. Vedi, qui è già diverso. Suonano le campane. E viene fuori uno, due, tre, quattro. Quattro quarti. È sempre quattro quarti. Vuol dire che per ogni battuta ci sono quattro quarti. Ecco perché si chiamano quarti, i quarti. Perché? Se prendiamo in considerazione i brani più semplici, le melodie popolari, allora in quel caso lì non dico sempre, non dico neanche quasi sempre. Diciamo, spesso, spesso, le battute sono di quattro quarti, o meglio, di quattro semi-minime. Di quattro note di lunghezza che possiamo ritenere normale, standard, comune. Usate il sinonimo che vi convince di più. Siccome spesso, nelle canzoni più semplici, eccetera, le note sono quattro, ok? Se quel tipo di nota lì, quella lunghezza lì, la chiamiamo quarto, diventa che l'intero è di quattro quarti. Ecco. Questo è il senso. Ecco perché si chiamano quarti. Ok, questa parte non la capisco. Non so perché è arrivato a questa deduzione. Cioè lui dice, siccome nei brani semplicissimi, mediamente, le note valgono un quarto, sono quattro per ogni battuta, e le battute durano quattro quarti, e questo è il motivo per cui i quarti si chiamano quarti. Non capisco che cosa intenda. Cioè, sa benissimo, perché l'ho detto prima, che un quarto significa, un quarto, un ottavo, un sedicesimo, sono dei rapporti, che bisogna rispettare un rapporto. Non c'è un motivo per cui il quarto si chiama quarto, l'ottavo si chiama l'ottavo. E se proprio vogliamo trovarci un motivo, è esattamente il contrario di ciò che dice. Cioè, lui dice, siccome ci sono quattro note da un quarto, l'intero è quattro quarti. No. In musica l'intero è quattro quarti, e dall'intero si ricavano i vari valori che possono essere espressi in quarti, ottavi, sedicesimi, eccetera, eccetera. Per cui, insomma, questa cosa mi sembra un po' strada, però andiamo avanti. Adesso ci farà un altro esempio molto veloce, in un tempo di tre quarti, con il tanti auguri a te. Passiamo all'altro brano, un po' più difficile, ma non tanto difficile. Happy birthday. Buon compleanno. Tanti auguri, tanti auguri. Cos'è? Tre quarti. Perché tre quarti? Pensateci. Ta 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 ta. Ta ta ta. Ta ta ta. Ta ta ta. Giusto? Sono un, due, tre pallini di fila, poi c'è un trattino, poi un altro pallino. Ecco qui, voglio subito dire una cosa. Notiamo un errore però perdonabilissimo. Non è un musicista. Lui Happy, le prime due note, le considera della stessa lunghezza. In realtà la prima nota è più lunga della seconda, anzi è puntata e con questo suo sistema, tra l'altro, non so come potrebbe andare ad indicarla. Quindi Happy non sono due pallini. Il primo è più lungo del secondo. Andiamo avanti. Non è un errore assolutamente perdonabile per un non musicista. E poi, un trattino. Happy birthday, tanti auguri. Ta 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 ta. È giusto o no? Allora, lo dividiamo sempre in quarti, cioè in coppie di segni. E viene fuori uno, due, tre quarti. E poi c'è tu, you, tu, you. Lo dividiamo sempre in quarti, cioè sempre in coppie di segni. Uno, due, tre quarti. Ok, qui c'è un errore a livello metrico abbastanza grave che non mi sarei aspettato da lui, dico la verità. Vedete che la sua battuta inizia con Happy, con, traduciamo in italiano, tanti. È come se, scrivendolo così, lui dicesse. Allora, l'accento principale, il battere, è su tanti. Significa che se noi volessimo battere le mani mentre sentiamo tanti auguri, dovremmo fare questa cosa. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Penso che nessuno farebbe questo. Faremmo quasi tutti così. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Questa è la metrica giusta, cioè Happy, o tanti, elevare la battuta dovrebbe iniziare con Gu, auguri. Per cui commette proprio un errore di metrica. Però, comunque, nell'insieme il concetto del tre quarti riesce a portarlo a casa. Ok, ultimissima parte, ultima questione. Beh, tra parentesi fa un esempio perfetto invece sul tempo 5 ottavi o 5 quarti. Prende come esempio il Tech 5, che è un brano jazz in 5 ottavi. E si vede chi ha capito. E finalmente, perfettamente. Però salto questa parte. Andiamo proprio all'ultima questione. Dove cerca di mettere a confronto il due quarti al quattro quarti. O meglio, secondo lui è la stessa cosa. Vediamo cosa dice e poi concludiamo. Però, se voi andate a cercare il brano Fra Martino Campanaro, la pagina Wikipedia dedicata a Fra Martino Campanaro, siccome l'autore è un compositore del 1700, eccetera, c'è lo spartito. E lì, sapete com'è divisa? È diviso così. Fra Martino Campanaro. Si può dividere anche così. A me sembra un po' scomodo, però a lui, che era un compositore, vero, magari veniva meglio così. Allora, se tu la dividi così, però, quanti quarti sono? Uno, due. Uno, due. Uno, due. È in due quarti. Fra Martino Campanaro, messa così, è in due quarti. Allora, uno dice, scusa, ma abbiamo detto che è in quattro quarti. Come fa lo stesso brano musicale a essere in quattro quarti e in due quarti? Nella notazione musicale classica. Queste non sono frazioni. Si chiamano quattro quarti, sette quarti, tre quarti, ma non sono frazioni. Tant'è vero che non c'è il divisore, la barra che normalmente divide numeratore e denominatore nelle frazioni. Non sono frazioni. Non sono frazioni. È semplicemente che tu decidi qual è la lunghezza della tua nota standard, della nota più frequente del brano, e solitamente sono in quarti. Dopodiché dividi il brano in cicli. Se riesci a dividerlo in quattro quarti, puoi anche dividerlo in due quarti. Però è una scelta arbitraria. In questo senso qui, due quarti e quattro quarti possono coincidere. Ok, qui dice una cosa giustissima, cioè la frazione che indica il tempo dopo la chiave non è da considerare a livello matematico, infatti non ha il trattino divisorio, ma il tempo è indicato tramite una frazione, ma che indica l'andamento del brano, l'accentuazione, la metrica. Cioè tre quarti, a livello matematico, sarebbe ad indicare tre parti su quattro. Che senso ha? Cioè il tre quarti in musica non indica questo, non avrebbe senso a livello di tempo. indica il valore totale della battuta e dunque il numero dei movimenti, delle suddivisioni, il valore di ogni movimento, di ogni suddivisione e dunque il numero degli accenti principali, secondari e la tipologia, accenti forti, accenti deboli, la quantità dei movimenti, il levare, il battere, quindi indica l'andamento, non certo tre parti su quattro, non ha assolutamente nessun significato. Quindi scrivere in due quarti significa avere la cadenza principale, l'accento principale ogni due quarti, un accento tra virgolette ogni due quarti. Scrivere in quattro significa averlo ogni quattro, quindi cambia l'effetto di un brano scritto in due quarti o in quattro quarti. Certo il fra Martino, con un fra Martino va bene tutto, però insomma c'è comunque una diversità e quindi non è un discorso di arbitrarietà, c'è una logica dietro ad ogni cosa. Insomma penso di aver detto tutto, il video secondo me sarà un po' troppo lungo, però ho fatto il mio dovere, vi saluto e vi invito a seguire il grande Roberto Mercadini.